buongiorno allora no faccio il video sinceramente perché avevo iniziato a scrivere un e però non capisco mai qua se parte quando inizia a parlare oppure se parte dopo vabbè comunque non importa saluti buongiorno faccio un video perché si capisco tor che la cosa non è al momento interessante ma spero che lo diventi faccio video perché avevo scritto un post lunghissimo per spiegare alcune cose relative alla mostra che inaugura domani al museo mart di roveretto che è probabilmente direi il secondo museo d'arte moderna più importante importante d'italia dopo la galleria nazionale d'arte moderna di roma e perché ovviamente e poi mi si è incenerito nel 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 telefonino e quindi sono il disappunto di doverlo riscrivere preferisco fare un video e lo faccio sintetico voglio dire che sgarbi è stato come assolto molto molto furbo nel riuscire a far parlare di sé ecco cioè il fatto che abbia deciso di chiamare la mostra piatta piatta arte e fascismo ovviamente ha fatto scattare i vari antifa di pavlov no che oddio il fascismo no ha osato fare fascismo così via e ovviamente si già si sprecano i commenti totalmente fuori fuori luogo in realtà il punto è adesso scusate sposto il il povero il povero peluche che lui starebbe qua tutto il tempo ma ho bisogno delle mani scusato grazie allora il punto che cos'è è che in realtà lui è semplicemente portato a termine in modo esplicito un percorso che era già iniziato da un po di tempo ma per un motivo semplice cioè quasi tutta la produzione artistica italiana da la fine della prima guerra mondiale alla fine della seconda per 60 anni non esistita non dove esistere non c'era ma voi capite che è impossibile ma impossibile anche perché erano e sono stati anni di enorme importanza per l'espansione la creatività dell'arte in italia un filo continuo che partiva dal futurismo cioè in italia c'era il futurismo e anche lì ci hanno pensato cento volte prima di dire ah ma che facciamo lo sdoganiamo perché oddio cattivi cattivi futuristi magari c'entra quel fascismo quando in realtà il futurismo ovviamente iniziato prima della prima guerra mondiale no quindi non poteva non poteva centrare nulla ma in realtà il filo che dal futurismo passa all'arte del ventennio al razionalismo e dal razionalismo al design a tutte le cose che noi adesso consideriamo come importanti fondamentali e alla base della nostra cultura artistica del novecento italiano beh non si poteva nasconderlo più non si poteva nasconderlo più è inutile continuare a dire no non esiste non è successo niente non è successo niente perché erano cose talmente belle che tanto saltavano fuori non potevi continuare a nasconderle no come sotto una coperta e alla fine ovviamente nella cultura le cose succedevano soltanto se arrivava l'input dal PD o da una delle sue propaggini ricordate che il PD non governa coi deputati non governa coi senatori non governa coi parlamentari il PD governa come sistema nella cultura la cosa è a dir poco quasi omogenea insomma non c'è nulla che veniva fatto se 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 il PD non volesse allora a un certo punto quel tipo di atteggiamento lì aveva già dato un segnale importantissimo il segnale importantissimo era ovviamente per per essere compreso perché vedete l'arte e il mondo dell'arte ha dei codici che sono sottili che devono essere capiti devono essere visti in quel caso anche il segnale di chi per primo ha dato il messaggio era importante e è stato nel 2012 quando nel museo nel nell'istituzione culturale più piddina di tutte che è palazzo strozzi a firenze per intendersi quello che si metteva sulla facciata i canotti dei migranti di Ai Weiwei nel 2012 fece la mostra questa qua intitolata su esattamente su quel periodo su quel periodo storico era intitolata bellissima come mostra sono stato a vederla e oggettivamente era meravigliosa ed era intitolata anni 30 le arti in italia oltre il fascismo quindi vedete cos'era l'idea no cioè l'idea di dire bene non possiamo più nascondere dobbiamo farla vedere accertiamoci di dire che stiamo parlando di una cosa che è oltre è altro non c'è c'era sì il fascismo ma c'è l'arte oltre il fascismo va bene c'è già qualcosa quindi realismo magico donghi e funi sironi vedete qua la 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 famiglia la famiglia di sironi quadro quadro pazzesco il vedete il vilt questo è il famoso busto della di ferrarini che era il l'eroe del del l'eroe pilota di di aerei vedete la genialità di sironi di di vilt scusate che da una parte rende il fa vedere il viso con con gli occhi del del vuoti perché perché l'eroe guarda guarda oltre no non si ferma lì e guardate dietro no questo è il retro della testa una specie di alieno una figura col loro all'interno no e con e con gli occhi i buchi degli occhi che che guardano fuori una modernità assolutamente incredibile quindi voi immaginate no queste queste meraviglie che c'erano che c'erano in quel periodo tutte iniziate a far vedere nella nella mostra palazzo strozzi a firenze a quel punto questo era un segnale è stato un segnale nel mondo dell'arte molto preciso se ne può parlare bene allora se ne può parlare e si è partiti dal da uno dei musei più più prestigiosi d'europa vale a dire il il musee d'orsè a parigi nel musee d'orsè a parigi nell'anno aspetta era pure dedicata va che bello dedicata dalla curatrice neanche mi ricordavo comunque era correva l'anno mille da 2015 quindi due anni dopo due tre anni dopo la la mostra di firenze ecco qua il catalogo della mostra al musee d'orsè a parigi dove venne mostrato al mondo quindi per la prima volta in italia diciamo così con la mostra di firenze al mondo con la mostra di parigi la ricchezza delle arti in italia in quel periodo peraltro la curatrice beatrice avanzi era la stessa che adesso cura la mostra la mostra del marta a roveretto in quel caso si è fatto un passo di più cioè si è cominciati a riannodare il filo fra l'arte e quindi in ogni caso sempre donvi in copertina comunque a riannodare quell'arte che non si voleva far vedere con quello che sarebbe venuto dopo vale a dire il design e infatti oltre ai quadri soliti si comincia in questa mostra a parlare di razionalismo si comincia a parlare di terragne si comincia a parlare di ro di radice e per intendersi vediamo ecco qua vedete il coraggio di dirastrazione razionalismo e di riannodare il tutto al design vedete questo è il ro del che sta al museo del novecento di firenze e si comincia a parlare anche di design nell'arredamento e similari vedete questo questo era il mio quadro è tuttora il mio quadro ma era in mostra al museo al museo d'orsè con di fianco le la sedia modernissima no che stava nella stessa sala del della casa del fascio di di como quindi vedete che si comincia a fare ma guardate il titolo il sempre ancora questo pudore il titolo fu molto timido quello della mostra museo d'orsè adesso vabbè voi non lo vedete perché al contrario comunque dolce vita col punto di domanda da liberty al design italiano 1900 1940 quindi un passo ulteriore perché si riaggancia tutto no quindi si va a riprendere l'attacco del del al design no quindi dal razionalismo al design quella in quella parte di di arte ma si dice non si nomina il fascismo no ma si dice dolce vita come dire sì cioè questo è un arte bellissimo ma c'è quel punto di domanda che sta a indicare come se ci sia altro insomma qualcosa di di oscuro che meglio non parlare lasciare sospeso no come domanda alla fine arriviamo all'ultima grande mostra cosa che fa capire che quindi in questo caso quella del 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 mart di roveretto è la quarta no ma capiamo poi perché sgarbi è stato molto molto acuto insomma no e come sempre geniale nel nel suo nel suo agire la terza mostra molto importante è stata la fondazione prada di milano quindi luogo della quintessenza della cultura milanese internazionale no quindi fondazione prada un museo enorme bellissimo dentro una vecchia fabbrica di liquori chi chi non l'ha ancora visto qua qua milano vada che 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 insomma è sicuramente una delle istituzioni a livello mondiale per l'arte moderna contemporanea per l'arte in generale bene alla fondazione prada nel dov'è che italia celanta cartelli non mi ricordo esattamente le date di quando di quando c'è stata tutto lì insomma sto cercando semplicemente quello comunque insomma è stato un tre anni fa credo qualcosa del genere poco prima del poco prima del credo fosse poco prima del covid forse è stata l'ultima mostra prima prima del covid può essere vabbè non mi ricordo la data comunque diciamo che è stata nel 19 catalogo della fondazione prada e qui si è concluso tutto innanzitutto questa mostra qua la fondazione prada è stata secondo me una delle mostre più belle fino adesso del secolo iniziato quindi del ventesimo chi l'ha vista capisce di che che mi che parliamo perché celant ha avuto facendo ancora un passino in più no ha avuto il coraggio di far vedere le cose cioè non appendere il quadro prendere il quadro vedere che bello ci siamo ma ha avuto il coraggio di far vedere le cose perché ha basato la mostra sulla ricostruzione degli ambienti con le fotografie si prendevano le fotografie d'epoca dove dietro c'era quadro come in questo caso dinamismo del footballer di boccioni e venivano ricreate questo atelier di casabà di di de pero vedete no cioè si praticamente si prendono le situazioni dell'epoca questa è una biennale ci sarà prampolini no e così via si prendevano le situazioni dell'epoca e prendendo i quadri che erano già rappresentati in queste in queste fotografie ma così facendo si faceva vedere cos'era il periodo del fascismo c'era una ricostruzione della 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 mostra della grande esposizione internazionale che 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 venne che venne fatta per vedete qui c'è chi c'erebbe vedere vedete casaballa no e così via e a quel punto il quadro singolo entra dentro in quello che era invece una vita reale no quindi durante il fascismo quindi quella cosa che non si poteva dire il fascismo ok in realtà succedevano cose c'erano mostre erano mostre bellissime c'era c'erano delle situazioni artistiche importanti sì c'erano fra i più grandi i più grandi artisti di tutti i tempi sì c'era la casa si inaugurava la casa del fascio di como di terragni con un'architettura unica e folle oceaniche sì e cominciavano a mostrare no si vedeva quindi c'erano c'erano le foto e venivano fatte vedere vedete verso una vera e contestuale storia no quindi celant cos'è che ha avuto il coraggio di fare appunto ha avuto il coraggio di rompere quello che era il muro definitivo cioè ma ti faccio vedere i quadri ma in realtà no ecco qui c'erano un sacco di foto e quest'immensità perché la mostra era immensa di quadri statue e così via tutte fatte vedere com'erano e recuperate con amore e mostrate in un determinato in un determinato punto diventava diventava essenziale no per 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 mostrare di che cosa si stesse parlando come e perché e in questo caso poi vedete ma anche senza problemi insomma far mostrare la cinematografia è l'arma più forte cioè anche situazioni di propaganda no e e similari una il coraggio di far vedere un duomo di milano con la faccia di mussolini per 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 la visita che ci fu nell'anno del 1933 no allora tutto tutto questo era oggettivamente senza tipo di precedente ma era una diretta conseguenza di quello che era stato fatto vedere prima quindi vedete cos'è stato allora il pd ha detto va bene se ne può parlare ha fatto la mostra palazzo strozzi anni 30 esistono ci sono no dopodiché va al museo d'orsè a parigi quindi fai vedere a tutta l'europa esistono e non solo esistono ma è collegato con quello che è stato celebrato fino adesso per dire il design qui riaggancia il la parte iniziale perché vedete si chiama post zangtuntumbe no zangtuntumbe era il poesia futurista famosa quasi tutti insomma l'abbiamo viste studiate a scuola o similari che dice dopo il futurismo quindi riagganciano a un filo che era invece dentro in un buco nero cosa c'è art life and politics italia 1918 1943 quindi questo è già fatto cioè ve l'ha già detto lui quindi significa che dopo il futurismo c'è stato vita arte politica non c'era il buco nero non c'era una cosa che 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 spariva indipendentemente dai giudizi storici che uno può dare cento volte ma per l'arte questo era e le anime belle che pensano che l'arte possa essere soltanto quando è democratica ma ve lo dice uno che per cui la democrazia è fondamentale ma veniamo giù dal pero ma il pantone l'ha fatto un imperatore non è che l'ha fatto il il una una repubblica parlamentare è così questo tipo cioè di di che parliamo che il periodo napoleonico che cosa facciamo non ne parliamo perché era un dittatore ma la torre dei mercati traiano cosa facciamo la tiriamo giù perché 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 era 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 un imperatore militare quindi questa cretinata cretinata no di dire oddio allora dato che c'era il fascismo e quindi non bisogna parlare di facendo e quindi sparisce anche l'arte sparisce anche al design sparisce anche un filo appunto importantissimo di cultura arte che non era mai stato interrotto è veramente una scemenza e tutta questa gente che è tutto fuorché di destra no ha riuscito è riuscita a avere il coraggio già di farlo vedere già di dirlo cioè con questa mostra qui alla alla fondazione prada c'era già tutto quindi si riagganciava dal futurismo prima guerra mondiale arte durante il periodo il periodo del ventennio razionalismo fine della guerra mondiale prosegue con il design e in quello che è la vera rappresentazione dell'arte italiana perché tante altre cose sono quasi a quanto meno prima del del dello spazialismo quindi di fontana che è la cosa più originale italiana post dopo guerra altrimenti tutto il resto era già più o meno scopiazzatura di di cose di cose altrui ma quel filo no quindi quello che lega dal futurismo a razionalismo al design e così via è puramente italiano dobbiamo andarne molto orgogliosi quindi è non solo giusto è indispensabile che si faccia ricerca artistica che si faccia vedere quello che c'era anche se faceva paura perché io mi rendo conto che per chi ha costruito una carriera sull'antifascismo a parole far vedere che in quel periodo c'era anche del bello è una cosa che può dare fastidio mi rendo conto ma l'arte è libera l'arte è libera è libera da qualsiasi deve essere libera deve essere libera da qualsiasi pregiudizio da qualsiasi condizionamento deve poter rappresentare lo spirito del tempo senza esserne responsabile l'arte rappresenta lo spirito del tempo lo zeitgeist come chiama come 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 si usa dire e non è responsabile responsabile sono le scelte dei cittadini dei dittatori e la storia combattuta dagli uomini dalla politica l'arte no l'arte accompagna questo e non può essere considerata di più di meno o bene è libera quindi o ci arriviamo veramente non capiamo e quindi dov'è l'intelligenza di sgarbi semplicemente come fa spesso di dire che il re è nudo cioè di piantarla col politically correct con le cose e infatti cosa sceglie per una grande mostra che non so neanche se sarà bello brutta so che ci sono alcuni quadri miei vedete che dietro qua normalmente c'era la fresco di radice quello che era andato anche alla mostra di di parigi quindi al museo d'orsè e con qualche patema d'animo perché un quadro delicato ma ma l'ho prestato anche per per la mostra di roveretto c'è un altro mio quadro di ro e così via che che ripeto prestato con con gioia al momento ben diciamo sostituito da dalla famosa vic di benvenuto quello che avevo nel nell'ufficio della della regione toscana però il fatto che lui abbia avuto quindi il coraggio di chiamare la mostra arte e fascismo stop stop e beh ma è stato è stato un genio è stato un genio perché come sempre ha detto ha avuto il coraggio di dire quello che gli altri fra mille giri di parole no allora vedi di art beyond fascismo al di là del fascismo dolce vita punto di domanda dopo zantum tumba no arte vita e politica in italia periodo ma non si cita la parola parola innominabile ecco che invece da domani a roveretto potrete andare a ad ammirare una mostra che adesso poi vi dirò in diretta cosa ne penso perché non è detto che sia bello ma magari non lo è ma ma credo che 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 sarà bella non credo che sarà l'altezza anche per una questione di mezzi credo che che la mostra la fondazione prada sia costata milioni perché insomma era veramente una cosa assolutamente incredibile ma in ogni caso prosegue in una doverosa doverosa serie di riscoperta cioè noi non è che dobbiamo andare in italia non è che dobbiamo andare tanto a fare gli archeologi abbiamo l'archeologo l'archeologia già che che soltanto non troppi anni fa insomma un ormai veleggiamo verso un centinaio d'anni fa basta guardare e scavare la superficie sotto cento anni per trovare arte cultura meravigliosi che sono stati ingiustamente nascosti per per 60 anni come se come se non esistesse non è parso di sentire che sgarbi vorrà anche fare arte comunismo va benissimo non non c'è assolutamente nessun strabismo niente di male bisogna semplicemente ricominciare a pensare che l'arte è arte e quindi c'è sempre stata e per cui benvenga questo questo coraggio di sgarbi e smettetela prima ancora di iniziare gli antifa di pavlov come li chiamo io cioè quelli che vedono scritta la parola fascismo partono senza capire neanche che di che di che diamine si parla perché il percorso era già stato tutto fatto ed è stato tutto fatto a sinistra quindi non niente di nuovo nessuna idiozia che ha si parla di queste cose perché adesso c'è il governo dei fascisti e lo posso e mi sento di poterlo dire in quanto credo di non avere nulla di fascismo nel neanche una fibra di fascismo perché perché dal mio punto di vista la democrazia è la cosa più importante ma l'arte c'è sia che ci sia la democrazia sia che ci siano le dittature sia che ci siano gli imperi no quindi un piccolo salto mentale sarebbe semplicemente introiettare questa questa informazione vi ringrazio e scusate l'avevo scritto bene su un post tutta tutta questa cosa ma capite che se x me lo incenerisce non appena provo a scrivere poi dopo prendere e riscrivere 2.000 battute di post lo rifarò forse un'altra volta intanto accontentatevi del video grazie